buona a tutti ragazzi sono SuperJazzAlpha e bentornati in questo nuovo video oggi vi faccio già subito una tempina di una nuova serie di minecraft misteri minecraft come vi sembra il nome già fa paura no fa paura fa paura no questa cosa mi sono dimenticato di fare una cosa aspetta ok quindi ci saranno dei misteri nuovi dungeon non si sa da dove siano sboccati fuori c'è un esempio tipo questo qua che non so cosa sia questo vabbè questo è sempre l'igloo ma vi fa vedere soldato questi qui ma gli altri li vedremo molto presto dovrebbe uscire penso domani o martedì no martedì no domani o mercoledì questa nuova serie sarà minecraft molto misterioso perché ci saranno nuovi mob mob pericolosi tipo i nuovi boss di minecraft nuovi boss tipo questo un boss molto incazzato vi faccio vedere questo è un esempio di boss questo qua fa paura a parte i nuovi boss di minecraft pericolosi anche questi qui fanno parte dei nuovi boss eh sì e sarà una bella serie più che ti prende paura perché questi boss fanno paura cioè ti viene un colpo di ti cagli addosso con questi boss guardate qua guardate qua guardate qua che roba guardate questi nuovi boss fanno paura eh eh per quello che mai è misteri perché è misterioso questo coso qua è misterioso questi qui sono le nuove razze di creeper quelli elementali e saranno pericolosi anche questi nuovi creeper cioè praticamente ho deciso di fare una serie misteriosa quindi minecraft misteri per capire chi è esatto a modificare a fare questi nuovi mob pericolosi nuovi boss creeper geneticamente modificati i mutanti purtroppo raga mutanti questa roba qui ha qualche c'è qualche problema che non a volte non funziona sta mod volevo portare anche questi bei mutanti guardate che mutanti che sono guardate qua i mutanti i ragni mutanti eh però prima o poi prima o poi ci saranno anche questi quando riesco a capire per bene perché non funziona per come farlo funzionare ma io c'ho paura soprattutto per i nuovi boss di minecraft questi qui ci daranno del filo da torcere ma noi capiremo chi è stato uno scienziato pazzo uno scienziato pazzo in un laboratorio molto misterioso in un laboratorio in cui ci sono questi mob dentro una gabbia tenuti eh questi nuovi mob tenuti dentro una gabbia che se sfondano la gabbia per il mondo intero è finita è finita distruggerebbero tutto il mondo tutta la popolazione i villaggi non esisterebbero più e il mondo sarà conquistato da questi nuovi mob e conquesterà i mob tutti eh non so cosa neanche io cosa dire tutti noi tutti i biomi saranno conquistati da un mob di questi qui soprattutto da questi boss nuovi boss di minecraft ma tutto questo è in una nuova temprima di domani oggi vi ho fatto già una 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 temprima vi ho parlato di questa nuova serie che porterò no perché ormai sono l'unico che non porto nuovi mob strani tipo come sentite dire gli scp quelle cose lì no eh e io non sono l'unico che non porto mob nuovi mob cose cose del genere quindi ho deciso di fare anch'io una serie non di scp no non di quello perché non ce ne c'è c'è di mod ho trovato le scp 096 c'è soltanto quello cosa faccio ci devono essere anche gli altri non è che soltanto i 096 c'è c'è soltanto un scp la mod non vale a niente quindi trovo dei nuovi mob ma presto ci saranno anche degli altri nuovi mob non soltanto questi che vi ho fatto vedere quando li troverò altri nuovi li farò vedere quindi ragazzi state bene in allerta perché domani uscirà il primo video della mystery minecraft o minecraft mystery vabbè adesso decido io come chiamarla questa nuova serie della minecraft mystery domani ci sarà il primo episodio mi raccomando ragazzi ci dovete essere non dovete mancare non dovete mancare a questo primo episodio della minecraft mystery sarà molto interessante vi piacerà molto io ve lo assicuro vi piacerà molto questa serie che farò vi piacerà molto ci dovete essere quindi ragazzi se vi è piaciuto il video mettetevi un bel mi piace commentate iscrivetevi mi raccomando e ciao ragazzi ci chi becchiamo alla prossima grazie 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 grazie